benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video siamo tornati con la nostra austria pronta a diventare il nuovo impero austriaco e quindi anche austro-ungarico avendo conquistato i territori oggi probabilmente ultimeremo il lavoro voi che state vedendo il titolo sicuramente lo saprete io che sto appunto preparando il video in questo momento non posso sapere come andrà il futuro non ho ancora questo dono quindi mentre qua proseguo con l'assimilazione delle città che sono davvero tante ma noi siamo ormai in grado di poterci badare a tutte cerchiamo un po di aumentare i punti ricerca investimenti beni perché comunque almeno il paese cresce meglio siamo la quarta economia al mondo mondiale mi raccomando non europea quindi siamo davvero fortissimi abbiamo tante truppe anche qua pronte a completare la missione che avevamo appunto iniziato quindi direi di spostare 6.000 truppe qua e 3.000 qua poi avendo fatto i conti male rimettiamo 3.000 truppe qua e siamo pronti tra 28 turni attaccheremo l'italia ma nel suo tempo dobbiamo prendere qualche territorio alla polonia qualche territorio da questa parte però mi sa che dovremmo armare tutta quindi diciamo recluta a metà recluta a metà comunque qui andiamo full poi la crisi è un pochino grossa debitone anche se siamo in una perdita apparente non ci preoccupiamo e qua rafforziamo il confine prima che cambia qualcosa muoviamoci da dichiarare subito guerra alla polonia e prendiamo subito i territori che ci servono questa grande premura è spiegata dal fatto che se prendiamo territori nostri possiamo comunque tenerli se li prendiamo occupati da qualcuno dobbiamo tipo restituirli e poi diventa un vero problema quindi io direi di addentrarci un pochettino in territorio nemico come abbiamo fatto per la romania e faremo abbiamo fatto per l'italia seppur con qualche errore prendiamo più territori del normale così anche se loro dovessero prenderci qualcosina siamo pronti a rimediare 2 3 4 5 6 7 8 perfetto quindi in ottica impero austriaco abbiamo finito con la polonia vero no poi ci sono i territori rubati all'ucraina va bene intanto alla polonia negoziazione di pace e prendiamo questi territori qua che a noi servono tutti aspettate che è bello sbagliare una volta non due però dobbiamo prendere i territori a ovest però tutti i territori a ovest quindi questi perfetto se la matematica non è un'opinione ma sicuramente avrò sbagliato di nuovo no qua sopra abbiamo finito restano solo questi quattro territori quindi diciamo siamo un pochino vittime del di come finirà la guerra tra ucraina e polonia ciò che possiamo fare noi e sapendo appunto come vi faccio rivedere per ricordarmelo io che dobbiamo prendere questi quattro territori qua prepariamo qui gli eserciti perché tanto non dovremmo fare grossi attacchi quindi queste 3000 truppe le muoviamo tutte qua le raccogliamo tutte e da qui vediamo poi dove devono andare se ho quasi reclutasse me bene lo farei anche subito dichiarerei subito guerra loro e subito mi mi approprierei dei loro territori ma sapete che vi dico la rischio faccio passare qualche mezzo altro turno e poi gli dichiaro guerra tanto qui queste 460 non saprebbero dove andare queste qua qua quanto siamo alla tesoreria è vuota vabbè ora è piena e quindi prima di altri danni attacchiamo subito l'ucraina subitissimo e prendiamoci 1 2 e per ora 2 poi andiamo verso il terzo attacco terzo territorio se recupera l'ucraina quel territorio è fatta basta solo che recupera un territorio perfetto è fatta è fatta no a quanto pare serve un po di di intromissione in più nei loro confini quindi vabbè qui forziamo la mano e andiamo leggermente più avanti qua muoviamo gli eserciti e qua prendiamo gli altri due territori dai ma proprio per tanto per questa cosa qui spingiamo solo in caso di necessità negoziazione di pace a noi servono ta 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 e il quarto ta purtroppo non c'è stato indietro poi una bella separazione qua perfetto negoziazione a noi servono abbiamo detto perché non voglio servono i territori questi qua quei 4 servono 1 2 3 4 facciamo 5 e gli chiediamo una pace sì perfetto restano due territori all'italia e la serie è ufficialmente finita ci dichiara guerra l'albania manchia no grazie siamo la terza potenza mondiale quindi direi richiesta di commercio dacci queste due province ah non ce la fa con la richiesta di commercio serve l'ultimatum 1 2 mentre abbassiamo le 3 e 4 ultimatum dacci queste due province o ti invaderà il mondo non accettano e quindi dichiariamo guerra all'italia per l'ultima volta l'ultima guerra della serie e prendiamoci soltanto senza sbagliare soltanto queste due province una e due se la pace è buona lo è non avevo però fatte conti col fatto che loro potessero reagire va bene dai tanto sappiamo cosa dobbiamo prendere non faremo sicuramente l'errore dell'ultima volta proprio questa volta c'è così tanto di sicurezza che inizio già a assimilare roba qui mentre le tassazioni aumentano tutto è perfetto tutto nella norma perfetto abbiamo preso fin troppo quindi dateci due territori e basta stavo scherzando dateci allora più territori possibili proprio io me ne prendo un sacco di questi territori arrivo fino a rimini pure cosa fanno quelle 16.000 truppe lì non lo voglio sapere dateci solo questi due vi prego oddio prima che poi qua finisce male saliamo le truppe pensiamo a difendere un pochettino qua va bene mettiamogli qualcosina tanto per ma noi basta difendere il confine e avere le truppe pronte quindi direi da dei territori limitrofi reclutiamo qualcosina noi perfetto hanno preso i due territori importanti loro ma noi pure abbiamo preso territori quindi dobbiamo chiudere qua bloccare la ciambellina e domandargli no non possiamo domandargli una pace senza il territorio ora sì però che possiamo vi faccio vedere come negoziazione di pace dateci questi tre e basta sì sì cosa manca a dobbiamo essere in pace va bene manca la grecia va bene la grecia ora credo si leverà dalle scatole infatti non si è tolta dalle scatole va bene la grecia quanti territori ha muoviti muoviti ecco a posto signori la missione è completata l'impero austriaco è stato formato l'impero austro-ungarico è stato formato no non c'è più nient'altro vabbè ma lo sapevo signori l'impero austro-ungarico anche con un leader che non gli appartiene è appena rinato guardate quanto è bello guardate quanto è possente domina tutta l'area dei balcani superiore territori italiani che ora però gli voglio cedere quindi facciamo richiesta di commercio province gli restituiamo tutti i territori che secondo me non ci servono no rifacciamolo non voglio sbagliare richiesta di commercio gli diamo una due tre quattro e cinque e sei hanno aspettate ecco 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 il problema queste province qua perché potrà interrovere sono nostre appunto questa è il regno austro-ungarico quello diciamo originale con i territori giusti quindi questo è quello che corrisponde alla realtà perché tanto udine e treviso ce l'avevano già ma noi abbiamo l'istria territori italiani e altro quindi dichiarata una bella pace alla moldavia perché non c'entra niente direi di la capitale ovviamente è stata a vienna quindi salviamo il gioco per l'ultima volta dopo aver assimilato così qualcosina giusto tanto per e adesso come ogni volta riviviamo la serie arrenditi sconfitta e vediamo come è andata subito la slovenia fuori già sono territori buoni poi mi pare la croazia dovrebbe essere la prossima ma non gli prendiamo tutto passano un po di turni siamo ancora nel 2020 e l'austria è già raddoppiata nel 2021 fa fuori la bosnia mentre lì scoppia la guerra eterna tra polonia e ucraina noi finiamo l'area balcanica ora c'è la repubblica slovacchia prima poi se non erro la repubblica slovacchia no forse la i territori serbi poi subito tutti all'attacco verso la repubblica slovacchia e poi contro l'ungheria mentre quella guerra durata cinque anni ancora continua sei anni ancora combattono i territori quelli bassi del dell'ucraina l'ungheria annessa resta la romania che è una guerra lunghissima guardate che poi fortunatamente finisce così poi annettiamo l'italia e si fa in gran casino ma poi prendiamo quello che ci serve ma sbagliamo dopo l'errore servono due attacchi in alto lì un po di confusione ma solo per prendere alcuni territori e poi mentre l'ucraina un po da un po di fastidio alla polonia recuperiamo qua parte di nuovo la guerra e nel turno 344 e dopo 11 anni è appena nato l'impero austro-ungherico ancora un altro turno lo prometto e signori adesso muoverò tutte le truppe nella capitale poi probabilmente le scioglierò perché la seconda parte della serie come se fosse ricominciamo da zero quasi quindi truppe sparse quella non ne voglio le porto tutte alla capitale per vedere quante sono rimaste sopravvissute e le licenzieremo in grande stile diciamo ecco mentre qua tutti si muovono non c'è nient'altro da fare se non comunque attendere ah dimenticavo polonia ucraina combattola ancora non ci avevo fatto caso perfetto queste 13.000 truppe saranno sciolte tutte e con l'alto dei miei 100.000 direi che si può fare l'ultima cosa alzare tutto al 30 per cento 30 e 30 forse anche 33 33 45 no forse troppo va bene così perfetto tanto a noi non serve avere grossi introiti per ora e che dire signori da anche per questa serie è tutto al momento in cui registro questo video non so quanti iscritti avremo ma con molta probabilità la prossima serie potrà appunto essere la guerra degli iscritti la serie che tanto aspettate fin da quando ho fatto il video dell'impero romano ma che sta per arrivare come vi già vi ho anticipato lo speciale 500 iscritti sarà una presentazione dopodiché poi nascerà la vera serie dove si faranno tante belle cose e va bene ragazzi questo video e questa serie finiscono qui e come ogni volta vi ricordo di fare tre semplici cose tre semplici passi per supportarmi la cosa bella che sono anche gratuiti quindi non costa davvero niente per voi iscrivetevi al canale per farmi capire che comunque questi format vi piacciono e se ne volete ancora o di qualsiasi tipo commentate con suggerimenti infatti questa serie e molte altre che vedete sono anche vostre idee vostri suggerimenti che io comunque apprezzo moltissimo se una serie vi piace o comunque tipo uno scenario o un qualsiasi cosa vi attira lasciatemi tanti like così inizio a capire un pochino le vostre preferenze e poi essendo un canale attivo che pubblica video attivate la campanellina fatele il nome dell'impero austro-ongarico o di chiunque altro io abbia creato perché grazie alla campanellina potete appunto vedere quando esce un nuovo video anche se appunto l'orario cerco di tenerlo alle 14 abbastanza fisso e va bene allora credo di avervi detto tutto appuntamento alla prossima serie non so qual è ma sicuramente ci divertiremo molto mentre qua l'Estonia come ha preso questi territori non lo so ok questo è un bassallo mi sa si si è un bassallo e allora noi ci vediamo con una prossima serie ma in generale con un prossimo video